Gentili ascoltatori, tecnici, registi e musicisti, si stanno preparando per guidarvi alla scoperta della nuova straordinaria tecnica del suono a tre dimensioni, che si realizza con il 6 di Fasi Super Stereo. Niente paura. La regia ci ha mandato un piccolo esempio di effetto che supera il muro della stereofonia.